Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Giovanni e oggi siamo ritornati su Brostars Mamma mia rega, ci abbiamo fatto a finir pass Adesso sblocchiamo prima il pacchetto di azione e poi con let maligna, ma a fine episodio Ok, 3, 2, 1 Ok, allora, Bull che piange Ah, ma è rara quella di Stecca, ok Ticca arrabbiato e Stecca, ok Ok ragazzi, no, vabbè, me la voglio sblocca adesso, no, a fine video 3, 2, 1, eccola qua, eccola qua Colette maligna, colette maligna Ma gli hanno pure cambiato l'animazione Non era così prima che lo gratta, non è Vabbè, ma io la metto lo stesso, ma io mi vado a giocare in sonoravvivenza, va Cioè, raga, c'è, con colette maligna si gioca oggi Si gioca con colette maligna Che ho pure il gadget E guardiamo anche qui Colette Tutta colette Però, Bombardy, non mi uccidere a inizio puntata, eh Quindi voglio un po' godere Sta colette maligna Perfetto Ma io non ho capito tanto bene Cosa fa il gadget? C'è scritto che gli vendi punti saluti in base a Ma non fa niente, guarda Guarda, guardate Guardate, se io faccio così Guarda Niente, non faccio niente Io provo ora di utilizzarlo Che è qualcosa con la migra che sta simboleggiando qualcosa Boh, vabbè Senti, io Non fa niente È proprio inutile sto gadget Io direi, vabbè Cosa fa? Boh, vabbè, io lo riutilizzo Cosa deve fare? C'è la migra più lunga A me non mi sembra proprio Vabbè Questo è meglio che la mia figlia E poi Guarda i polpi E' meglio di Colette E' meglio di Colette Guarda là Guarda là Guarda lì La maestosità di Colette Ma che bella Ma che bella la mia Colette Perfetto Perfetto Abbiamo pure Gplay online Perfetto E niente Dobbiamo fare un bel po' di missioni? Non lo so Perché Gli altri premi Mo sono le megacasse Ti servono Più gettoni Per ottenere i premi bonus Queste Le vorrei fare Cioè escono martedì Cioè Dici un giorno E quattordici ore Probabilmente Tra un giorno E quattordici ore Sarebbero martedì mattina Ok Però quello che vorrei fare E' questo Il gadget di Maxine Scalpe lo spazio-tempo Maxine si trasporta In un bar Il d'occhio In una zona Dell'arena Scelta dopo 4, secondi Dall'attivazione Il gadget Corso Con Sostante Vabbè Ma i gadget di Maxine Sono troppo forti Ma che è Ma che è Regà Il gadget più forte Della storia Cioè Ma non è possibile Poi tra l'altro Guardate Mo li faccio attaccare Da belli Vabbè Ma già Ma già No Non ci credo Vabbè Comunque Siamo Io Fai Una strategia Allora Quello che dovremmo fare Allora Non posso Posizionarlo qua Aspettate Vediamo un po' Di power up Perché Così Ci rendiamo un po' Più forti Ok Posizioniamo Il punto qua Adesso Tara Attaccami vai Ecco Così ho avuto La possibilità Che non mi attaccava Tara Però non mi è Proprio attaccato L'aveva capito Che aveva attivato Il gadget Quella dannata No 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 Grazie Signore Grazie Ok Che dire Allora Me ne metto lontana Adesso Io attacco A Tara Ciao Tara Ciao Tara Mi sono Teletrasportato Che figo Sto gadget Però Anche l'altro È molto forte Cioè Per almeno Due secondi Ti fanno scudo E corri velocissimo È bellissimo Quello È bellissimissimo È anche forte Ok Mi pigliare Un succhetto Ma cosa succede Se faccio così Guardate Mi piglio direttamente Il succhetto Tra l'altro L'ho pure sprecato E E Ho fatto male Perché se alla fine Mi serve Vabbè C'è un power up Sono più forte Ok È impossibile È impossibile Vabbè Mannaggia a me Però Vabbè Ah Gplay Sei disconnesso Eh Mi dispiace Che ti sei disconnesso Proprio Male Mi dispiace Proprio Oh Perché c'è un segnetto Sul mio telefono Vabbè Ho fatto un segno Se voi non l'avete visto L'ho fatto Vabbè Poi tra l'altro Devo provare anche le nuove razioni Anzi Facciamo una cosa Lo vorrei vedere Dato che hanno cambiato pure qua Poi ho tutte le razioni di Colette Cioè Regà Ce le ho tutte Ce le ho tutte Tranne quelle di Energetic Che Ma che Che se c'è da collezionisti Non è facile ottenere Ma che è E poi mi avete detto Che a da rosa Ci sono più Che a rosa Hanno messo più reazioni Queste È impossibile Dove le troviamo Scusi Vabbè Allora Mi farei una partita Nella Cosa Spettri Ok Allora Potrei fare Questa cosa qui Per esempio Andrei nella modalità Spettri Quindi mettiamoci questa Questa qui E vorrei provare Ad utilizzare Il gadget Di Maxine Perché dice Che cura I colpi Cioè Che cura La vita Quando Diciamo Vabbè Guardate Ma cominceremo A perdere vita Perché c'è un botti Ma non è che ho messo amichevole Io non l'ho messo amichevole Ok Allora Vediamo se la cosa è vera Che ti cura Dopo I secondi Non cura È un bugiardo Cioè Credo che avrà curato Non lo so Spero di sì Vabbè È una farm Di cura Cioè Basta che fai così Però solo tre volte Può succedere Già Però Il brutto è che ti cura solo 200 E poi sto anche a morire Quindi No Sono morto Praticamente Ma ragazzi Direi di concludere Qua è il video Spero che vi sia piaciuto Se hai piaci Iscrivetevi al canale Ciao Ciao